Grazie a tutti. La dottoressa Masciopinto poi con l'intervento successivo per entrare poi più nel dettaglio di esperienze concrete domani con la presenza di Mariancone e Dodd Marinai e nel pomeriggio andare a guardare un po' più quello che è il contesto di riferimento dell'associazione ossia i Balcani quindi andando a scoprire quale potrebbe essere un possibile contesto per dare avvio a nuove esperienze di social business. Penso che possiamo dare la parola a Marco che nonostante tutto il disagio si è reso disponibile per portare avanti la presentazione su Skype quindi vi chiedo solo un po' di pazienza al fatto che lui non sia qui in carne ed ossa però credo riusciremo più o meno a seguirlo. Quindi Marco quando vuoi puoi cominciare. Grazie. 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 È incredibile comunque no davvero mi dispiace io vi ringrazio ancora una volta per avermi invitato per darmi l'opportunità di parlare a questa iniziativa e sono molto felice anche se appunto dispiaciuto didassere lì dal vivo. mi sentite bene devo parlare più forte va bene, perfetto io non vi vedo comunque insomma cerco di andare avanti in qualunque momento vi avrei detto fatemi un gestaccio interrompete, vi fate molte domande insomma mi fa piacere essere interrotto piuttosto di andare avanti magari Valtese può fare interprete di questi segnali mi dici se c'è qualche domanda in qualunque momento non ci sono problemi dopo ti capovolgiamo anche il computer così puoi vedere la sala più tardi facciamo anche una versione della webcam facciamo anche un saluto allora io niente come ha detto Valtese sono ricercatore dello UNUS Social Business Center che è un centro di ricerca e consulenza dell'Università di Firenze che è stato fondato nel 2011 col patrocino di Muhammad Yun premio Nobel per la pace del 2006 per occuparsi di impresa sociale di social business nel mio intervento di oggi vorrei ecco in qualche maniera dare alcuni elementi di che cos'è un social business cos'è l'impeditoria sociale qual'è il contesto italiano per l'impresa sociale questa è un po' la struttura della mia presentazione non so la vedete bene le slide le vedete posso dare per scontato che si vedono diciamo sì riusciamo comunque più o meno più o meno a vederle non sia schermo intero però riusciamo a seguire ok la struttura della presentazione più o meno sarebbe questa poi ovviamente possiamo modificarla sulla base anche delle vostre richieste o eventuali curiosità quindi cosa si intende per impresa sociale giusto un veloce inquadramento teorico cosa vuol dire fare impresa sociale nel contesto italiano perché magari fra di voi può esserci o comunque le persone che conoscete può esserci qualcuno può avere un'idea di impresa o pensare di entrare nel mondo dell'impeditoria provare a realizzare un progetto in termini di impresa sociale quindi come si potrebbe fare quali sono le forme dell'impresa sociale in Italia come progettare un social business e poi nell'ottica di rivolgere la mia presentazione a come sostenere l'impeditoria sociale completamente il caso di Pistoia Social Business City che è un programma che io coordino a Pistoia di promozione appunto dell'impeditoria sociale poi insomma vediamo quanto tempo abbiamo a disposizione ditemi anche voi come entrare la cosa possiamo tagliare oppure può dire alcune cose piuttosto che altre allora diciamo che ci sono vari punti di partenza per approcciare il concetto di social business noi come centro di ricerca Younz Social Business Center un po' ovviamente potrei dire partiamo da quello di Muhammad Yunus che è diciamo l'accademico che dà il nome al nostro centro e che lo patrocina Muhammad Yunus lo conoscerete premio nome e per la pace nel 2006 insieme alla Grameen Bank per il microcredito si dice e Yunus è considerato l'inventore del microcredit no solito Yunus viene descritto così io non so se Yunus è il vero e proprio inventore del microcredito quello che sicuramente lui ha fatto è stato ed è questo che gli è balzo poi di Pagno Nobel dimostrare che il microcredito funziona cioè che è possibile dare dei piccoli prestiti alle persone senza che questi debbano dare in cambio dei collaterali cioè delle garanzie alle banche in questa maniera si apre il circuito del credito a delle persone che normalmente ne sono state escluse perché appunto non avevano una ricchezza da dare in cambio che è anche un po' una cosa un po' assurda perché se uno è povero ha bisogno di credito per magari rifiutare un percorso imprenditoriale e ti viene richiesto una garanzia ma come io sono povero come faccio a darti e Yunus ha dimostrato invece che una garanzia possibile può essere la fiducia nella persona e nel progetto di questa persona e partendo da un prestito di propria tasca in un villaggio rurale del Bangladesh ha dimostrato poi anche accademicamente che questi prestiti di questi piccoli prestiti venivano restituiti e che dei poveri riuscivano a uscire dal circolo vizioso della povertà e magari iniziare una piccola impresa o una piccola attività economica uscendo così dal circolo vizioso della povertà quindi ecco questo è quello del valso premio Nobel insieme alla Grammy Bank dimostrare e il microcredito funziona basandosi sulla fiducia la Grammy Bank oggi è una banca grandissima 2.500 fidale in giro per il mondo di cui una anche a New York e dal 76 ha avuto 7 milioni di beneficiari nella mia presentazione di oggi non parlerò diffusamente di microcredito magari la dottoressa Mascio Pinto magari dopo avrà modo di parlarne non so vediamo però l'Unus poi ultimamente si è anche spostato sul concetto di social business che infatti è anche collegato a quello di microcredito perché il microcredito può essere uno dei percorsi che danno avvio a un'impresa sociale danno credito a una piccola attività economica e può avere una finalità sociale quindi appunto oggi parliamo di social business cosa si intende per social business e quali sono le origini di questo concetto almeno per quanto riguarda il punto di vista di Unus ovviamente di cui stiamo parlando poi ce ne sono anche altri li vedremo dopo magari nello scenario italiano per quanto riguarda l'idea di Unus l'origine di questo concetto è sia tra gli anni 80 e 90 il diciamo il principio economico prevalente è quello del capitalismo il capitalismo morteva forte il liberismo proprio in quel periodo però quando sembrava esserci una visione completamente unidimensionale del benessere dove il PIL era considerato l'unico indicatore del benessere di una nazione inizia a farsi strada in alcuni pensatori tra cui Unus ma pensiamo anche a Martia Sen pensiamo all'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite che unisce al reddito anche dimensioni come la sanità cioè la salute l'istituzione l'ambiente inizia a farsi strada l'idea e voi immagino sarete d'accordo con me che non si può considerare il benessere un qualcosa di unidimensionale che fa riferimento soltanto alla ricchezza e al reddito quando io penso al mio benessere probabilmente sì penso anche ai soldi è chiaro nessuno dice di no ma penso anche alla salute al diritto all'istruzione alla possibilità di vivere in un ambiente integro alle mie relazioni sociali con gli altri alle libertà civili e politiche cioè il nostro benessere è composto da questo e tante altre cose e allora si fa stata una visione multidimensionale del benessere che accanto al reddito unisca anche tutta un'altra serie di elementi l'idea di UNOX in questo è che in questo passaggio in questo rimedio all'incompetenza del sistema capitalistico anche l'impresa possa fare la sua parte e come può fare la sua parte l'impresa se dalla finalità tradizionale dell'impresa cioè il profitto si passa ha una finalità diversa la soluzione di problemi sociali e ambientali quindi di fatto il social business che cos'è? è un'impresa che si pone come obiettivo la risoluzione di problemi sociali o ambientali del territorio in cui opera in questo senso anche qui UNOX porta avanti qualcosa di interessante che comunque in Italia come vedremo insomma si era in parte già visto o ci sono le cooperative sociali lo vedremo insomma però è comunque qualcosa di importante che in effetti in quegli anni poteva comunque soprattutto in alcuni paesi essere considerato abbastanza rivoluzionario non lo so ci sono domande fino a qui posso andare avanti? vai vai puoi andare tranquillo Marco benissimo allora entriamo un po' più nel dettaglio cosa si intende per social business l'ho già un po' anticipato principalmente si tratta di un'organizzazione privata quindi non si tratta di un'organizzazione pubblica ma un'organizzazione privata una impresa a tutti gli effetti un'impresa a tutti gli effetti anche perché si tratta di un'impresa capace di recuperare i costi quindi di essere autosostenibile attraverso la vendita di servizi o prodotti quindi si autosostiene attraverso le proprie attività però è anche un'impresa che restituisce agli investitori soltanto il capitale iniziale dopo il quale tutti i profitti vengono reinvestiti nell'impresa stessa e quindi diventa un'impresa no profit quindi è un'impresa autosostenibile ma no profit che è gestita con criteri socialmente responsabili sia da un punto di vista sociale verso i lavoratori per esempio che ambientale verso per esempio i metodi di produzione quindi in sintesi possiamo definire l'impresa sociale come un'impresa efficiente e sostenibile intendendo per sostenibile sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista economico cioè autosostenibile che però abbia una finalità sociale o ambientale questa è la definizione di social business alla Junus e comunque di impresa sociale qui vediamo un documento scritto direttamente dalla mano di Junus sono i sei principi del social business sono un documento abbastanza famoso mi vado un po' a ripetere l'obiettivo sociale o ambientale la sostenibilità economico-finanziaria nessun dividendo il capitale iniziale il profitto completamente nell'investito responsabilità ambientale responsabilità sociale e poi un settimo punto l'unit with joy cosa vuol dire? che già nel fare impresa per l'imprenditore ci dovrebbe essere soddisfazione perché comunque l'imprenditore tendenzialmente almeno che non sia un cattivo imprenditore tende a fare ricchezza a produrre opportunità di lavoro quindi già quello è qualcosa di meritorio ma se in più noi ci aggiungiamo anche la soddisfazione nel perseguire una finalità sociale nel risolvere un problema della collettività nel rispondere a un bisogno del territorio ecco allora che ci può essere un surplus di soddisfazione da questa attività e è bello sottolineare insomma che fare impresa sociale è qualcosa di bello se mi permettete scendere un po' più nel dettaglio teorico di quella che è l'idea di Unus di social business abbiamo due modelli due tipi di social business nel primo si ha un'impresa completamente no profit quindi tutto viene reinvestito nell'azienda non ci sono dividendi verso gli azionisti o i soci cosa fa questa impresa produce dei beni o dei servizi che hanno un valore sociale intrinseco per esempio può essere un'impresa che si occupa di fornire a prezzi ridotti assistenza sanitaria agli anziani oppure assistenza odontoiatrica a dei prezzi molto ribassati rispetto a quelli di mercato come si misura l'efficacia di questo social business attraverso la riduzione del bisogno socioambientale su cui si va a operare quindi per esempio il bisogno di assistenza di anziani che normalmente non se la potrebbero permettere invece il tipo 2 di social business è un'impresa un po' diversa che sembra non tradire quello che si è detto finora ma in realtà non lo fa si tratta di un'impresa profit quindi che produce profitto per i proprietari ma i proprietari chi sono? sono direttamente le persone svantaggiate quindi per esempio pensiamo al contesto di un paese in via di sviluppo i poveri possono essere i diretti proprietari di questa azienda questa azienda può produrre qualunque tipo di servizio o prodotto per esempio tavoli sedie ma la cosa bella è che i proprietari beneficiano di questa attività del loro lavoro e le loro condizioni di vita vengono migliorate vedremo poi come questi due tipi si rincrociano poi un po' nella disciplina italiana in merito alla cooperativa sociale ma ci arriveremo dopo vi faccio qualche esempio a livello di anche qui di paese in via di sviluppo prima o poi di arrivare al caso italiano Grameen Danone è un caso famosissimo forse l'avrete sentito nominare si tratta di una joint venture fra il gruppo del Bangladesh di Grameen e la Danone per la fornitura in zone rurali del Bangladesh a prezzi ribassati di yogurt arricchito con vitamine che sono generalmente carenti nella dieta dei bambini in quelle zone che provano malnutrizione è stata lanciata nel 2006 secondo il principio niente perdite niente dividenti quindi è una joint venture completamente no profit e ci sono state delle valutazioni d'impatto e hanno dimostrato in effetti ha avuto un impatto molto forte sulla salute dei bambini in quelle zone ovviamente anche qui io tutte le volte lo dico è chiaro che bisogna valutare caso per caso soprattutto quando ci sono di mezzo delle grandi multinazionali in questo caso per esempio la Danone perché c'è sempre il rischio che qualcuna di queste grandi imprese prenda un po' l'opportunità di lavarsi la coscienza attraverso un piccolo progetto piccolo ma nel senso marginale rispetto a tutto il resto delle loro attività per lavarsi un po' la coscienza quindi bisogna ragionare caso per caso questo caso io lo porto perché comunque ci sono questi studi che dimostrano che in effetti è stata un'iniziativa genuina che ha portato degli impatti molto forti sulla popolazione locale però è vero che bisogna poi valutare caso per caso perché insomma si sa bene in tutti i vari casi di greenwashing in cui grandi multinazionali e poi durante l'operato di tutti i giorni si comportano in una maniera però poi all'attenzione del pubblico si comportano magari il singolo piccolo progetto sociale e insomma nel nostro settore io mi occupo di impresa sociale terzo settore insomma questo è chiaramente un problema che è bene sempre tenere presente e bisogna farsi un'idea obiettiva ognuno di noi caso per caso Gramishakti sempre in Bangladesh è sempre un esempio di tipo 1 è un'impresa che è nata per installare parnelli solari nelle zone rurali dove solitamente manca la corrente non c'è energia elettrica questo cosa vuol dire che in inverno quando c'è poca luce il sole va giù alle 5 o alle 4 chiaramente se ti devi studiare o accendi una candela oppure smetti e rimandi il giorno dopo così per il resto delle altre attività e allora questa è nota per diffondere l'uso di energie alternative tra cui anche il biogas nelle zone rurali del Bangladesh che hanno da una parte il problema della mancanza di energia e dall'altra il problema dell'inquinamento ambientale anche qui si tratta di un esempio di tipo 1 perché come nel caso precedente si vende un prodotto che ha un valore sociale o ambientale di per sé che è intrinseco la Grameen Bank stessa che conoscerete e che è quella che ha vinto il premio Nobel insieme ai 1 se si può configurare come un esempio di social business di tipo 1 perché da una parte fornisce un servizio che è quello di far accedere al credito persone che normalmente ne sarebbero escluse per permettere loro di iniziare un'attività economica il tipo 2 perché sono i poveri stessi che hanno avuto un prestito a diventare proprietari di piccole percentuali della banca e poter poi tramite il sistema degli interessi ottenere qualcosina in cambio per migliorare le loro condizioni quindi anche la Grameen Bank si configura come un social business ecco questa è un po' la panoramica di quello che Yunus ci ha dato come teoria a livello di social business internazionale poi a me da questo punto in poi piace invece parlare del nostro contesto il contesto italiano magari non so se ci sono delle domande su questa prima parte penso di no puoi proseguire puoi proseguire benissimo perché insomma a me piace sempre dirlo l'Italia ha alle proprie spalle una storia molto lunga di impenditoria sociale quindi insomma Yunus ha fatto la sua parte per portarci degli elementi concettuali in più sicuramente aiuta molto nel portare alla ribalta questo concetto soprattutto all'estero ma ecco l'Italia da questo punto di vista alle spalle molto coperte secondo me è importante per noi sapere che già c'è in Italia a livello di social business quindi se me lo permettete farei una panoramica del contesto italiano a questo punto mi calerei un po' nel nostro contesto per vedere un po' quello c'è intorno a noi e partirei un po' da lontano in questo senso perché dicevo ha una lunga storia alle spalle e mi piace partire dal 1948 quando è entrata in vigore la nostra Costituzione che almeno secondo me è una delle Costituzioni più belle del mondo anche solo per come è scritta per la prosa con la quale è stata stesa oltre ai peri contenuti ovviamente e se noi leggiamo l'articolo 41 della Costituzione italiana leggiamo che l'iniziativa economica privata è libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza alla libertà alla dignità umana la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali come vedete già nella Costituzione i padri costituenti avevano inserito la finalità sociale dell'impresa comunque l'opportunità della finalità sociale dell'iniziativa economica privata e questo secondo me è incredibile nel senso è importantissimo perché già nel 48 c'era questa filosofia ma si potrebbe già andare più indietro quindi le radici dell'impresa sociale noi le abbiamo già nella nostra Costituzione e nell'articolo 45 la Repubblica rionosce la funzione sociale della cooperazione carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata la legge ne promuove e favorisce l'incremento non i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità quindi qui altrimenti si sostiene la mutualità della cooperazione delle cooperative cioè il sostegno altruistico fra soci piuttosto che il profitto e la speculazione privata e l'opportunità che la legge ne promuova questo tipo di impresa e secondo me questo qui è molto importante notarlo poi la Costituzione ogni giorno è sempre più bistrattata però mi fa piacere che già lì ci siano dei riferimenti venendo un po' più al particolare ci possiamo chiedere quindi ok uno se ci ha parlato di social business nella Costituzione ci sono questi riferimenti ma l'impresa sociale in Italia che forme prende cioè io a giro dovrebbe guardare per vederla allora vorrei provare a coinvolgervi in questo esercizio teorico un po' complicato in cui abbiamo un continuum un filo che va dalla società civile al mercato e da una parte abbiamo le organizzazioni di volontariato a sinistra dove c'è la società abbiamo le organizzazioni di volontariato a un capo dall'altro capo abbiamo l'impresa tradizionale verso il mercato nel mezzo l'area potenziale dell'impresa dell'impresa sociale vediamo un po' più nel dettaglio cosa voglio provare a dire allora le organizzazioni di volontariato per quanto siano una cosa le associazioni o comunque le organizzazioni di volontariato per quanto siano le organizzazioni spesso importantissime perché portano avanti dei servizi delle attività dei progetti assolutamente meritori fare volontariato è importantissimo io stesso lo faccio nel commercio eco sono organizzazioni private hanno delle finalità sociali quindi ci avviciniamo come abbiamo detto finora ma non sono imprese quindi pur essendo importantissime meritorie noi non possiamo includerle nel cappello dell'imprenditoria sociale perché non generalmente almeno poi vedremo ci sono delle eccezioni non possiamo considerare le imprese perché non si autofinanziano attraverso le loro la vendita quantomeno attraverso la vendita di beni e servizi in questo senso è più probabile che vivano magari di donazioni di ruote associative poi ovviamente spesso ci sono anche dei progetti però l'attività prevalente magari non è la vendita non è un'attività commerciale quindi in questo senso non possiamo metterle sotto il cappello dell'imprenditoria sociale anche se con alcune eccezioni poi abbiamo l'impresa sociale così definita da una legge che c'è in Italia dal 2006 e che dopo vedremo quindi ovviamente l'impresa sociale così definita ce la mettiamo ci mettiamo le cooperative sociali dopo le vedremo quindi ci mettiamo l'impresa sociale che abbiamo detto essere un'impresa privata a finalità sociali no profit questa è l'impresa sociale in Italia no profit privata finalità sociali organizzazioni volontariate sono no profit hanno delle finalità sociali sono private però non sono imprese non si autosostenga attraverso proprietà andando più verso destra poi abbiamo l'impresa scopo sociale o ambientale in questo caso si tratta di un'impresa a tutti gli effetti che però non è no profit quindi fa profitti e le distribuisce agli azionisti o ai soci pur avendo una finalità sociale cioè pur essendo nata per risolvere un problema sociale attraverso la vendita dei propri servizi quindi il dibattito è aperto ognuno di voi poi mi può dire mi può dire la propria io se volete vi dico la mia se il vincolo del no profit è fondamentale oppure no io per quanto mi riguarda se posso essere sincero sono dell'idea che il vincolo del no profit sia abbastanza importante sono un sostenitore delle cooperative delle cooperative sociali e penso che remunerare il lavoro piuttosto che il capitale sia importante e abbia un valore di per sé chiaramente si può pagare le persone si devono pagare in maniera equa è bello però sapere il profitto prodotto da un'azienda che quindi produce profitto e che quindi è in salute va bene però che questo profitto viene reinvestito nell'impresa stessa per allargarla magari pagare più persone avere più personale portare avanti più servizi aumentare lo spettro delle finalità sociali che questa si pone quindi ecco da questo punto di vista io sono d'accordo sul vincolo del no profit anche se qualcuno potrà dire è vero però così almeno si incentiva degli imprenditori a entrare in questo campo e comunque la finalità sociale è mantenuta è vero infatti il dibattito è aperto in questo senso spostandoci ancora di più verso il mercato abbiamo l'impresa socialmente responsabile che non è no profit quindi fa profitti anche questa e non ha nemmeno una finalità sociale ma è gestita in maniera responsabile cioè non produce un bene o un servizio o un valore sociale anche qui si può produrre tavoli sedie computer però nel farlo io decido di adottare tutta una serie di criteri sia produttivi da un punto di vista ambientale sia di politica del personale sia magari impiegando persone svantaggiate sia verso i fornitori che verso i clienti in una una carta etnica anche qui il dibattito è aperto la chiamiamo impresa sociale questa oppure no e qui ognuno si fa la propria idea l'area potenziale dell'impresa sociale è questa dall'impresa sociale all'impresa socialmente responsabile chiaro è che quella forse ci sembra più integra di tutte queste è l'impresa no profit con finalità sociale gestita in maniera responsabile insomma l'impresa mette insieme un po' tutte le cose etiche di questo discorso però poi qui ognuno si fa la propria idea infomma se poi qualcuno di voi vuole dire la propria mi fa piacere andando poi sempre di più verso il mercato arriviamo all'impresa tradizionale che appunto come dicevo prima non c'è niente di male nel fare impresa tradizionale anche perché voglio dire meno uno non sia davvero un cattivo imprenditore generalmente l'impresa crea occupazione crea ricchezza sul territorio quindi ben vengono ovviamente anche le imprese tradizionali però anche qui come nel caso dell'organizzazione di volontariato non possiamo metterle in nessuna maniera sotto il cappello dell'imprenditoria sociale ecco questo è un po' il discorso approfondirei appunto a questo punto quali sono le forme specifiche le figure giuridiche che possono prendere le imprese sociali in Italia allora il principale istituto è quello della cooperativa sociale ognuna di queste organizzazioni le andiamo poi a studiare più nel dettaglio nelle prossime slide comunque il principale istituto è quello della cooperativa sociale istituito nel 1991 la legge 381 abbiamo poi una legge dal 2006 specifica che introduce proprio il social business cioè la traduzione specifica l'impresa sociale proprio in Italia con la legge 155 del 2006 e poi altre organizzazioni non profit responsabili e dopo andremo a vedere questo insieme di organizzazioni dà vita a un fenomeno lo scenario italiano dell'impresa sociale di 17 mila imprese circa che è un fenomeno importante anche perché dal lavoro ha circa 400 mila occupati tra soci non soci quindi insomma è un fenomeno economico anche rilevante questi sono dati più aggiornati che abbiamo sono del 2012 quindi andiamo a vedere quello che è il principale istituto dell'imprenditoria sociale in Italia la cooperativa sociale la disciplina delle cooperative sociali emanata nel 91 con la legge 381 sancisce che queste sono cooperative che devono perseguire l'interesse generale della comunità e l'integrazione sociale dei cittadini a differenza delle cooperative tradizionali che sono nate per sostenere la mutualità tra soci quindi noi abbiamo la cooperativa di consumo che nasce per fornire ai soci i propri prodotti a dei prezzi più bassi e in Italia la cooperativa di consumo più famosa è la COP c'è in Puglia la COP in Toscana è strappieno c'è anche la COP ovviamente ci sono le cooperative di credito o il credito cooperativo che nasce per dare credito ai propri soci a delle condizioni migliori oppure per esempio le cooperative edili che nascono per costruirsi la casa a un prezzo più basso la cooperativa sociale oltre a questo però persegue anche l'interesse generale della comunità non solo quello dei soci l'integrazione sociale dei cittadini del territorio dove opera ed è una cosa importante e lo può fare in due maniere o attraverso la gestione di servizi sociali sanitari o educativi quindi pensiamo per esempio a cooperative sociali che gestiscono asili per esempio o studi medici e in questo caso si parla di cooperative sociali di tipo A oppure attraverso lo svolgimento di attività economiche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in questo caso non si produce un bene o non si eroga un servizio né un valore sociale di per sé si può produrre qualunque cosa può essere per esempio una vita che lavora in ferro per esempio e fa cose in ferro però nel farlo si impiega persone che vengono dallo svantaggio sociale persone svantaggiate possono essere disabili psichici e fisici oppure ex tossicodipendenti persone che vengono da un percorso del carcere e così via in questo caso si parla di cooperative sociali di tipo B cooperative sociali di inserimento lavorativo come vedete qui c'è una sorta di somiglianza con il tipo 1 e il tipo 2 che abbiamo visto prima per quanto riguarda la disciplina di Yunus anche se non c'è una stretta sovrapposizione ovviamente uno si è ma è nata prima l'uovo o la gallina Yunus si è ispirato oppure si è ispirato alla disciplina italiana la disciplina italiana è del 91 comunque quindi insomma a me piace anche pensare che Yunus in qualche maniera chissà magari l'abbia letta e si sia in qualche maniera ispirato a questo anche se ovviamente l'istituto delle cooperative è abbastanza peculiare del contesto italiano non è francese magari in particolare ma non in tutto il mondo ecco le cooperative sono qualcosa di diffuso cooperative sociali qualche altro dettaglio sono organizzazioni senza scopo di lucro quindi sono organizzazioni di non profit e sono onlus di diritto quindi sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono disporre a differenza delle altre cooperative di soci volontari e questo è importante c'è proprio un libro dei soci volontari e i volontari possono prestare il loro impegno gratuitamente proprio perché alle cooperative sociali si riconosce questa funzione sociale verso la collettività capito nelle cooperative tradizionali invece essendo comunque rivolte come dire ai loro soci in particolare non si capisce la necessità di un volontario in una cooperativa di consumo per esempio anche se chiaramente poi ci sarebbero dei casi particolari le cooperative sociali invece di si riconoscere questa funzione sociale e di si dar diritto di avere dei soci volontari sono un fenomeno importante perché delle cooperative nate negli ultimi dieci anni in Italia un quarto sono cooperative sociali sono 14.000 in Italia quindi abbiamo detto tutta l'imprenditoria sociale in Italia fa 17.000 fa 17.000 organizzazioni di queste 14.000 sono cooperative sociali quindi chiaramente è l'istituto più importante quando si parla di la nozione qual è? quando si parla di impresa sociale in Italia si parla di cooperative sociali principalmente le cooperative sociali sono un quinto di tutte le cooperative italiane e danno lavoro a circa 320.000 addetti tra soci e non soci però vi ho detto dal 2006 abbiamo anche noi in Italia il social business l'impresa sociale a tutti gli effetti cioè nel 2006 il legislatore ha fatto una legge il dettito legislativo 155 che dice che introduce la qualifica di impresa sociale non è un nuovo tipo di figura giuridica non è un nuovo tipo di organizzazione è una qualifica di secondo livello che altre organizzazioni private solo quelle private possono assumere se sono rispettate una serie di criteri quindi organizzazione del titolo primo e organizzazione del titolo quinto del codice civile quindi fondazioni associazioni cooperative imprese consorsi possono assumere la qualifica di impresa sociale se sono rispettati alcuni criteri questi criteri sono avere un'attività economica e già questo di per sé è un criterio perché si deve avere un'attività economica commerciale cioè bisogna vendere dei prodotti o dei servizi però bisogna farlo in alcuni settori particolari per cui si desumono obiettivo sociale riguardo la collettività questi settori nella legge questi sono scritti sono l'assistenza socio-sanitaria l'assistenza educativa la valorizzazione del patrimonio culturale la protezione ambientale la formazione a grandi linee sono questi ce ne sono anche altri un po' più specifici specifici scusate però questi sono i principali quindi bisogna avere bisogna far sì che il 70% dei propri ricavi sia in uno di questi settori per dimostrare di avere un obiettivo sociale e di avere un'attività economica al tempo stesso però questa organizzazione deve essere non propria quindi voi capite che anche una cooperativa sociale può facilmente qualificarsi come impresa sociale perché sicuramente ha un obiettivo e un settore di attività che fa parte di quell'obiettivo è no profit di diritto l'impresa è la cooperativa sociale ma per esempio nel caso di un'impresa che vuole qualificarsi come un'impresa sociale il vincolo del no profit è un po' più complicato e allora io devo metterlo nello status devo metterci un articolo apposito e inoltre devo pubblicare annualmente un bilancio sociale a fianco al bilancio tradizionale al bilancio tradizionale economico magari sul bilancio sociale mi ci soffermo un attimo perché secondo me è uno strumento particolarmente interessante quindi ecco questa è un po' la legge che dice ci si può qualificare come impresa sociale una volta che uno si è qualificato di fatto non cambia niente non succede niente praticamente questa legge è stata fatta e però gli è mancato un pezzettino cioè se loro sono arrivati a fare questa legge probabilmente per incentivare l'imprenditoria sociale ma non si sono dimenticati di mettere gli incentivi questo è un po' un problema perché in effetti io devo fare tutte queste cose per qualificarmi un'impresa sociale ma poi che me ne viene uno dirà ho capito Marco ma non è che ti puoi fare le cose perché te sei un imprenditore sociale te non è che fai le cose perché ti convengono è vero ma se io come legislatore voglio incentivare l'impresa sociale è giusto anche dare degli incentivi se le cooperative sociali sono onus di diritto e quindi hanno degli gravi fiscali e se non è giusto che li abbiano in virtù delle loro caratteristiche allora magari anche un'associazione una fondazione un'impresa che vuole andare in questa direzione che lavora in un settore del sociale che decide di essere no profit e pubblica un bilancio sociale se me è giusto e abbia almeno gli stessi diciamo incentivi se no non si è capito perché si è fatto questa legge e di fatto è andato proprio così che nessuno si è qualificato nessuno ha fatto questo percorso solo in 365 dal 2006 hanno messo la parola impresa sociale nella regione sociale si sono qualificati elementali e principalmente perché in alcune regioni in caso di bandi appalti si può accedere per determinate cose solo se si è impresa sociale e questo chiaramente lascia il dibattito aperto su questa legge che anche in ambito accademia è molto dispulsa perché in effetti sembra che non sia nata proprio bene o forse semplicemente non se ne sentiva la necessità essendoci in Italia c'è un istituto come quello della cooperativa sociale molto diffuso se si voleva allargare lo spettro dell'imprenditoria sociale e altre organizzazioni forse si poteva fare diversamente come va? va bene? mi fermo ho fatto delle domande vado avanti devo accorciare datemi potere direzioni li vedo tutti vivi per il momento quindi puoi procedere si 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 sono vivi e seguo se sento al primo botto mi fermo mi fermo allora passo al bilancio sociale mi emoziona sempre particolarmente al bilancio sociale non so promette ne avete sentito parlare è uno strumento di accountability non mi piacciono troppo gli inglesismi però in questo caso rende bene perché unisce la parola accounting quindi rendicontazione alla parola responsibility cioè responsabilità il bilancio sociale è una rendicontazione delle responsabilità che ha l'impresa o l'organizzazione o l'ente verso i propri portatori di interesse quindi i propri lavoratori i propri soci i propri fornitori i propri clienti i propri consumatori e così via verso tutti i portatori di interesse è una rendicontazione dei comportamenti che l'impresa dei risultati sia economici ma anche sociali e ambientali che di solito questa rendicontazione del bilancio tradizionale manca perché è importante perché quando voi andate a leggere un bilancio tradizionale un bilancio economico che comunque è pubblico voi andate la camera di commercio ve lo fate dare di un'impresa e lo leggete quando va bene ma quando va bene perché non è detto vi fate un'idea di come va quell'impresa da un punto di vista economico finanziario se il bilancio non è troppo complicato se non è stato fatto apposta per non capire come sta andando quell'impresa ci si fa un'idea di come va da un punto di vista economico finanziario ma se io ho due bilanci uno in verde in attivo con un sacco di profitto e un altro bilancio che invece è in pareggio io vi farò l'idea è l'impresa migliore e con il lato in attivo ovviamente però se poi io parlo con i dipendenti di questa impresa e mi dice loro sono sfruttati che utilizzano dei metodi produttivi e non sono sostenibili da un punto di vista ambientale io mi rendo conto non mi so fare un'idea attraverso il bilancio tradizionale di come si è arrivati a quel risultato di esercizio come si è arrivati a quel risultato finale nel bilancio mentre se io poi parlo con i dipendenti dell'altra impresa quella in pareggio loro mi diranno è vero sì noi siamo andati in pareggio però qui ci si trova bene l'ambiente di lavoro è fantastico i colleghi sono tutte persone gentili i nostri capi ci coinvolgono nelle decisioni abbiamo pannelli solari sul tetto facciamo una riunione tutte le settimane per decidere l'andamento dell'azienda abbiamo dei benefit nel senso che abbiamo la messa gratuita tutte queste cose che in parte si possono anche desumere forse dal bilancio ma difficilmente allora quale sarà l'impresa che io preferisco mi mancano le informazioni per decidere ecco il bilancio sociale su questo ci può dare qualche informazione in più ovviamente anche qui il bilancio sociale lo vediamo dopo può essere anche qui uno strumento per vendersi meglio di quello che si è bisogna lavorare caso per caso capire se effettivamente poi l'impresa fa il bilancio sociale per semplicemente vendersi meglio comunicarsi meglio oppure se c'è stato un processo o di esse è comunque uno strumento volontario a parte per le fondazioni bancarie che devono fare per forza un bilancio di missione per le imprese sociali che devono come si è visto prima pubblicare un bilancio sociale e in alcune regioni per le cooperative sociali come è fatto un bilancio sociale come è facile di scrivere un bilancio sociale praticamente riempio questo indice qui cioè faccio un'introduzione con la metodologia che io adotto una prima sezione con le informazioni generali proprio una grafica dell'organizzazione il nome l'indirizzo della sede legale cose semplici così una sezione B con qual è l'oggetto sociale dell'impresa cioè le finalità dell'impresa stessa la forma giuridica che io adotto chi sono gli amministratori cioè chi è che che decide quali sono i nomi dietro questa questa impresa una descrizione sintetica della vita della vita associativa che c'è dietro dietro l'impresa quindi voglio capire un po' se cosa viene fatto a livello di associazione insomma di 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 lavoratori di soci cosa viene proposto un'indicazione anche dei compensi quanto vengono pagati i manager gli stipendi a che livelli sono ecco capiamo anche un po' questo le partecipazioni sia attive e passive cioè quindi se l'impresa partecipa a qualche altro tipo di organizzazione oppure se qualche altra organizzazione ha delle partecipazioni in questa impresa magari quell'impresa lì può essere fantastica può fare un bilancio sociale fantastico però se poi mi va a partecipare un'impresa e invece compie le peggiori schifezze scusate la parola insomma può esserci qualcosa e non va quindi mi interessa capire questo mi interessa capire cosa fanno i volontari e poi le finalità sociali se noi stiamo parlando di un'impresa sociale quali sono le attività principali che vengono portate avanti per rispondere a queste finalità quali sono i risultati che finora hai portato a casa fammi una valutazione ecco di questi risultati fammi a dire se davvero si sta lavorando per quelli è un impatto anche di queste attività su questi risultati non manca poi una parte economica anche qui in cui si fa un'analisi delle entrate delle uscite come sono stati impiegati i fondi che tipo di investimenti sono stati fatti insomma arrivato alla fine di tutto questo ragionamento si ha secondo me una fotografia una fotografia più ampia ecco di che tipo di organizzazione ho davanti se io leggo un bilancio sociale se il bilancio sociale è fatto bene mi dà secondo me un'idea più ampio più ampio respiro mi permette di capire com'è che tipo di impresa ho davanti e secondo me è uno strumento importante dopodiché per concludere la panoramica sull'imprenditoria sociale in Italia vado un po' a contraddire ve l'ho detto finora però solo in parte noi potremmo volendo anche qui ognuno si fa la propria idea includere anche altri due tipi di organizzazioni le organizzazioni di volontariato potremmo farle rientrare dalla finestra almeno quelle più strutturate quelle che magari hanno dei dipendenti che hanno magari dei progetti in cui c'è comunque una certa rilevanza economica perché insomma si sono date un'organizzazione una struttura organizzativa quasi manageriale quelle più grandi e poi le fondazioni di natura privata che però realizzano servizi di pubblica utilità che li mettono sul mercato in questo caso si aggiungono altre 2600 organizzazioni circa e in questo caso si arriva alle 17000 organizzazioni che si è visto prima ecco questa è un po' la panoramia allora io avrei finito la parte sull'imprenditoria sociale io a questo punto non so lascerei la parola a voi se ci sono degli interventi o delle domande insomma o anche solo dei ragionamenti delle osservazioni su quello che ho detto finora non lo so ditemi un po' voi io vorrei provare a fare una cosa così ti giro e verso ce la faccio fatemi belli che vi inquadro aspetta così ci vediamo tutti un po' in faccia veniamo anche noi da quel lato ok aspetta 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 che viego un po' giriamo vedi già qualcosa in più ok ciao a tutti ciao 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 ci sono domande? dai dite qualcosa a voi via se no mi si sta seccando la pompa ma ti arriva ciao la mia domanda è la mia domanda ciao la definizione tra imprese sociali in Italia e social business secondo la definizione di Yunus cioè se ci sono le differenze che ci sono come vai vai se ci sono delle differenze sì di definizione comunque cioè l'idea di imprese sociali che è stata realizzata in Italia rispetto magari all'idea che ha avuto Yunus per esempio in cosa si differiscono sì allora sì 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 allora hai visto in Italia il principale istituto è quello delle cooperative sociali quindi le cooperative sociali di fatto sono no profit come nel tipo 1 Marco scusa mi si interrompo per togliere la presentazione magari ti vediamo in faccia insomma è più bello della presentazione sicuramente ah certo hai ragione aspetta ecco mi vedete ciao eh lo so sono brutto però è la presentazione ciao piacere comunque no dicevo allora in Italia il principale istituto è quello delle cooperative sociali quindi il tipo A di cooperativa sociale in particolare è no profit come tutte le cooperative sociali e come nel tipo 1 eh alla Yunus quindi si eroga un servizio sociale o ambientale eh il tipo B di cooperativa sociale in cui si produce un bene o un servizio che può essere qualunque tipo di bene o un servizio eh è anche quello no profit un po' a differenza del tipo 1 di Yunus che era eh profit in quel caso perché i proprietari erano i soci stessi dei beneficiari delle persone svantaggiate ehm però si utilizzano delle persone svantaggiate quindi in questo caso si dà lavoro opportunità di lavoro a delle persone che normalmente avrebbero delle difficoltà a trovare a trovare lavoro a trovare un'opportunità in generale secondo me quello che è importante è farsi di noi stessi una propria una propria definizione di interventoria sociale quali sono gli elementi principali a prescindere poi dai Yunus dalla disciplina 155 del 2006 o dalla disciplina sulle cooperative sociali secondo me gli elementi principali sono la natura privata dell'organizzazione che abbiamo davanti quindi un'impresa sociale non può essere un organismo pubblico quindi è privata ha una finalità sociale o ambientale quindi vende beni o servizi che rispondano a un bisogno della collettività del territorio dove si va a operare quindi natura privata finalità sociale e secondo me altre due cose dei criteri di gestione responsabili e etici da questo punto di vista soprattutto per quanto riguarda i lavoratori quindi impiegando persone magari che avrebbero difficoltà altrimenti a trovare lavoro oppure impiegando persone non svantaggiate ma remunerandole in maniera equa e coinvolgendole nella missione aziendale e poi secondo me quarto punto essere no profit o comunque low profit cioè far sì che comunque l'azienda faccia profitti perché comunque vuol dire che è un'azienda che funziona bene che i prodotti che vende sono richiesti dai consumatori che hanno dei clienti però che questi profitti vengono reinvestiti nell'azienda stessa perché a noi ci interessa e questa azienda si ingrandisca perché è un'azienda e va a risolvere dei problemi del territorio quindi più è grande più persone impiega più servizi eroga più avrà impatto sul territorio e questo ci interessa secondo me e questo è il cilio che ci piace quando si parla di cioè a me piace lavorare sull'impresa sociale perché penso sia un strumento importante di migliorare ora sembrava un po' retorico dirlo però migliorare il mondo intorno a noi quantomeno il nostro territorio ecco secondo me sono questi quattro punti la definizione di impresa sociale non so se ti ho risposto sicuramente quello che ho fatto è vedere ho delle occhiaie tremende incredibile con le cose cioè drammate mi sta venendo io ce l'ho messa tutta per raggiungervi ve lo giuro va bene lo stesso ciao ascolta vorrei chiederti cioè soffermarmi di nuovo sul bilancio sociale che è una cosa che mi interessa molto e che ritengo molto importante però sulla quale sono un po' scettica nel senso quanto è realmente poi utilizzato realmente trasparente un bilancio sociale da parte di queste imprese nel senso il bilancio sociale è comunque redatto dalle stesse persone che redigono il bilancio di esercizio quindi l'impresa volendo potrebbe anche non dare delle informazioni ci sono delle garanzie di trasparenza effettivamente del bilancio sociale oppure ancora è uno strumento comunque ops non dovevo dirlo il sempre mi piace ok ecco pronto ciao sono sparito per la domanda infatti ce la stavamo domandando ce la stavamo domandando era una curiosità la domanda è troppo scomoda sparito mi vedono più è successo non lo so mi vedete mi sentite sì 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 devo ripetere eh ho sentito penso di aver com'è devo ripetere o penso di aver capito la domanda cioè quanto il bilancio sociale è uno strumento genuino quanto è effettivamente veritiero e quanto invece può essere utilizzato un po' a fini diversi esatto eh no infatti è quello che vi accennavo anche prima secondo me questa è una domanda giustissima cioè un'osservazione importantissima nel senso che bisogna stare attenti e valutare caso per caso è un punto secondo me insomma che anche a me prende prende molto e insomma infatti lo faccio notare anche quando faccio una presentazione perché perché sì perché è pieno di esempi negativi da questo punto di vista no cioè è chiaro che oggigiorno fortunatamente le preferenze dei consumatori si stanno orientando sempre di più verso imprese sociali verso imprese etiche e questo è importante cioè ora come ora i consumatori non guardano un prodotto soltanto per le caratteristiche del prodotto stesso ma anche per come il prodotto è stato prodotto scusate il giro di parole no nel senso anche il processo produttivo e chi ha fatto quel prodotto è importante per poi scegliere quale prodotto consumare di conseguenza le organizzazioni le imprese si stanno ovviamente attrezzando anche solo quelle non le imprese sociali le imprese tradizionali per un discorso di profitti si stanno orientando in quella direzione perché gli conviene gli conviene ma fortunatamente ben vengono nel senso è una cosa positiva alla fine i consumatori si stanno orientando in questa direzione è che ovviamente le imprese li stiano seguendo non per ispirazione etica probabilmente ma per convenienza e per tutto qual è la conseguenza di questo che da una parte ci sarà ci sarà sempre più confusione tra quelle organizzazioni che durante la loro attività si comportano in una maniera magari che noi reputiamo negativa che però nell'1% dei casi portano avanti un bollino un prodotto o un bilancio sociale di comunicazione che mettono davanti tutto il resto si fanno belle con quello e sperano che tutti il resto dei loro prodotti vada dietro e la reputazione venga migliorata e se queste si confonderanno invece con quelle organizzazioni che da sempre hanno una serie di criteri che hanno una linea che è completamente di prodotti che è completamente etica e quindi ci sarà sempre più confusione fra questi due tipi di organizzazioni io per esempio faccio l'esempio del commercio eco e della Nestlé del caffè eco e della Nestlé qual è il punto che loro hanno fatto una linea di caffè eco e ci sono state secondo me anche giustamente tante critiche da questo punto di vista perché dici ma come cioè come fai te Nestlé che ti comporti in una maniera a farti bella con un'unica linea di caffè eco non è giusto sminuisce il valore di tutto questo loro magari però se ci fa parlare ti rispondono noi lo facciamo perché vogliamo estendere le nostre linee eco e avere il caffè eco per tutti per quanto caffè noi vendiamo è impossibile averlo tutto eco anche questa può essere un'osservazione però chiaramente capisci che dietro c'è un po' la volontà di prendersi un po' di nuovo un po' di nuovo meglio col bilancio sociale per venire alla tua domanda secondo me può essere la stessa cosa e lì qual è l'unica nostra possibilità secondo me valutare caso per caso cioè il bilancio sociale è potenzialmente uno strumento che ci dà maggiori informazioni per valutare caso per caso non è possibile dire che chiunque pubblica un bilancio sociale è un'impresa fantastica perché è uno strumento volontario non sempre certificato da enti esterni si può scrivere un po' quello che ci pare diciamo le cose come stanno cioè nel senso ci si può scrivere un po' quello che ci pare è chiaro che poi ci sono delle linee guida che è un processo che coinvolge tanti stakeholder tanti beneficiari quindi chiaramente non si può scrivere una cosa per un'altra però chiaramente se ho qualcosa da nascondere e lo voglio nascondere e lo nascondo nel bilancio sociale non ce lo metto è chiaro nel bilancio sociale finiranno solo le cose che di bello faccio le cose belle faccio quelle brutte non ce le metterò e quindi e non dovrebbe essere così perché nel bilancio sociale e nei bilanci sociali fatti bene ci sono anche le cose brutte ci sono le cose non vanno io prima avevo detto c'è una valutazione dei risultati raggiunti ci deve essere una valutazione anche dei risultati non raggiunti e probabilmente anche questo può essere un indicatore per capire se è un bilancio sociale scritto in maniera sincera oppure no è capire capire un po' quello poi c'è tutto il discorso della fiducia fra organizzazioni del terzo settore quindi insomma per me non è facile delinquere fra virgolette da questo punto di vista però sono d'accordissimo che bisogna stare con gli occhi aperti e valutare caso per caso assolutamente spero spero di aver disposto da qualche insomma suggerimento su questo ciao senti una domanda sempre sul bilancio sociale volevo sapere quanto dal punto di vista proprio legislativo non so se ti trovi ferrato su questa cosa il bilancio sociale può risolversi in una rifusione delle spese dovute all'impatto ambientale del resto dell'attività di un'impresa cioè ti vedo un po' scosso cioè un'impresa quando compie delle attività che hanno un impatto ambientale deve ripagare poi in qualche modo le conseguenze di questo impatto no di queste attività quanto il bilancio sociale cioè la domanda è il bilancio sociale può risolversi in una poi degradando ad una rifusione di queste spese cioè sostituire la rifusione delle spese dell'impatto ambientale cioè e te diciamo stai chiedendo se il bilancio sociale può risolversi solo in questo sì cioè se il fatto che un'azienda utilizzi lo strumento del bilancio sociale possa poi esonerarla dal fare queste cose cioè se viene vista quasi come un ti ripago in questo modo perché ho anche perché perseguo anche queste finalità sociali ma senti allora secondo me non dovrebbe cioè se ho capito la domanda non dovrebbe nel senso il bilancio sociale dovrebbe tener conto un po' di tutto no generalmente poi il bilancio sociale viene prodotto da non lo so nel senso nel bilancio sociale si può mettere sia l'uno nell'altro sia i costi ambientali che si è avuto sia i costi ambientali che si è prodotto ed esternalità ecco diciamo così nel bilancio sociale dovrebbero si dovrebbe desumere le esternalità che si hanno per la collettività quindi sia positive che negative sia il valore il valore sociale ambientale aggiunto che si porta per la collettività sia il costo sociale ambientale che con le proprie attività si si produce non è semplice ovviamente sia valutare il valore aggiunto che il costo per la collettività delle proprie azioni chiedere tempo impegno e denaro chiaramente anche qui parlando proprio in maniera disillusa se io devo spendere io imprenditore che voglio fare il bilancio sociale se devo spendere tempo impegno e denaro per una di queste due cose cosa farò? cercherò di spendere tempo impegno e denaro per valutare il valore aggiunto per la collettività più che i costi più che i costi prodotti e quindi magari quelli lascerò un po' sotto in pesi un po' così però invece anche qui se il bilancio sociale fosse fatto bene dovrei poter fare un confronto anzi poter dire magari attraverso il mio impianto produttivo prodotto e alcuni lo fanno alcuni lo fanno ho prodotto tot di CO2 per fare proprio un esempio banalissimo ho un prodotto tot di CO2 attraverso il processo produttivo i veicoli ho avuto e così via però dall'altro canto dei progetti di sostituzione dei miei veicoli cerco di averli meno inquinanti oppure addirittura non lo so faccio un esempio pianto degli alberi per controbilanciare questo teoricamente poi nel bilancio sociale lo posso lo posso scrivere ecco era questa la domanda cioè teoricamente cioè era questo quello a cui mi riferivo teoricamente in realtà dovrebbero essere cose separate cioè che cosa? non si è obbligato a ripagare beh no è previsto tutte le imprese le imprese che hanno un impatto ambientale devono ripagare cioè l'opera nel settore dell'ambiente ma non solo anche la coppa ha costruito un pacco per ripagare l'impatto ambientale della ma non c'è il mondo decimale sì sì non so in che termini però ogni impresa deve ripagare in qualche modo cioè diciamo cioè era questo quello a cui mi riferivo le due cose non dovrebbero essere separate cioè il bilancio sociale non dovrebbe sì ecco diciamo non dovrebbe riferirsi all'attività che persegue l'azienda a prescindere ci sono problemi di collegamento questo è chiaro va bene comunque in realtà è quello che cioè mi hai risposto nel senso che era questo quello che volevo dire il fatto che in realtà poi il bilancio sociale venga utilizzato per fare poi una comparazione della riparazione del danno creato dall'azienda quindi dall'esternalità era questo in realtà quindi ce l'abbiamo fatta sì sì può essere può essere usato può essere usato anche anche per quello chiaramente poi insomma il bilancio sociale è una cosa che ti può stimolare a portare avanti questi progetti o a ripagare questi questi costi e te produci perché poi nel bilancio sociale lo puoi dire e quindi può essere una soddisfazione per te può essere un criterio di giudizio per i consumatori poi ovviamente il bilancio sociale o no speriamo che le imprese lo facciano voglio dire minimizzino i costi ambientali e massimizzino il valore per l'ambiente ecco è un po' questo e l'impresa sociale dovrebbe fare come criterio di gestione ridurre l'impatto come finalità sociale aumentare l'impatto ecco possiamo riassumere forse forse questo Marco alla fine visto che nessuno si è addormentato ci sono tutti belli svegli nonostante l'orario nel frattempo è arrivata la dottoressa Mascio Pinto che ti saluta a distanza poi ti seguirà nell'intervento direi se vuoi possiamo andare verso la parte finale un po' illustrandoci quelle che sono le vostre attività ah c'è una domanda di Michele un attimo un attimo ancora ciao Marco una su una serie in realtà di stimoli e di interventi che mi ha suscitato il tuo intervento di considerazioni più che altro una era strettamente tecnica non è stato molto chiaro almeno a me dalle slide che hai presentato se nel bilancio sociale è compreso anche il bilancio diciamo di esercizio finanziario perché tu dicevi c'era una parte in cui si fa anche un'analisi finanziaria insomma dell'azienda per cui sostanzialmente diciamo sono mutuabili diciamo le due cose o no questa è la domanda proprio di tipo tecnico risponde a questa? eh sì poi continuo perché intanto risponde a questa allora sì e praticamente allora la parte che dicevo economico finanziaria del bilancio sociale non è uguale al bilancio tradizionale infatti il bilancio sociale viene approvato in sede di approvazione del bilancio ordinario e depositato presso il registro delle imprese insieme al bilancio ordinario quindi abbiamo comunque due documenti diversi nel bilancio ordinario che poi dipende poi che organizzazioni abbiamo di fronte perché ci sarà un'impresa che ha quindi conto economico e stato patrimoniale quando dico conto economico si apisce son toscano questo quindi avremo conto economico e stato patrimoniale poi ovviamente ci saranno altre organizzazioni che avranno un regime di bilancio più semplificato più semplice e diverso quindi abbiamo un bilancio ordinario e il bilancio sociale due documenti distinti perché quello ordinario ovviamente è molto approfondito c'è tutte le varie voci di bilancio in quello la parte economica di quello sociale invece è più che altro uno studio un approfondimento ma se vogliamo anche quasi qualitativo più che quantitativo di quello che significano quei numeri in quelle voci di bilancio quindi entrate uscite oneri fondi investimenti cioè io desidero attraverso quella parte lì che l'organizzazione mi parli in qualche maniera invece mi dia dei numeri mi dica proprio che cosa ha fatto da quel punto di vista cioè quei fondi quei soldi lì da dove vengono come l'ha presi come l'ha fatti le uscite a cosa sono servite gli investimenti io ho fatto un investimento di tot soldi in quello ma perché l'ho fatto cioè nel senso capito è più un approfondimento in quel senso più uno studio qualitativo poi ci sono i numeri anche lì e più si va approfonditi meglio è e c'è spesso anche una riqualificazione del conto economico in termini proprio di valore aggiunto quindi cerco di capire cerco di togliere i costi esterni e far sì che i conti i costi scusate i costi interni si sommino ai ricavi quindi per esempio quanto io pago un dipendente un lavoratore per l'impresa è un costo però è bello sapere che per la collettività quello è un valore nel senso l'impresa ha un costo nel pagare quella persona ma per la collettività quello è un valore perché io creo ricchezza per il territorio cioè do dei soldi alla collettività pago una persona quindi per l'impresa è un costo nel bilancio tradizionale quelli sono costi quindi più io dipendenti e più l'impresa va in rosso se vogliamo proprio parlare in maniera ultra semplificata però al tempo stesso è anche bello che d'altro canto nel bilancio sociale quei costi lì invece appaiono come un valore aggiunto e quindi c'è anche una riclassificazione in termini di valore raggiunto si dice quindi sono comunque due documenti separati ok grazie no l'altra riflessione è che insomma sono un po' collegati in realtà tra loro due spunti che mi sono venuti in contesti diversi del tuo intervento uno era legato insomma al riconoscimento che i consumatori hanno di questi prodotti perché ti faccio questa domanda cioè tu hai detto che effettivamente su alcune tipologie di mercato effettivamente diciamo l'interesse dei consumatori si sta spingendo verso prodotti che hanno degli attributi di tipo chiamiamoli etici insomma mettiamoli così questo però in realtà è un po' quello che io personalmente non ho riscontrato per esempio per i prodotti agricoli cioè spiego sono agronomo e mi sono laureato in economia agraria e mi sono occupato di agricoltura sociale per esempio che è un altro secondo me delle grosse potenzialità per l'agricoltura soprattutto per il carattere mutualistico insomma che ha però la difficoltà era proprio legata a questo cioè che sono prodotti di larghissimo consumo e di conseguenza i presti relativamente molto bassi e in cui ancora molto l'incidenza insomma del lavoro e quindi della mano d'opera per la realizzazione di questi prodotti per cui costituiscono effettivamente c'è un impiego di soggetti svantaggiati nei lavori agricoli spesso riduce notevolmente diciamo la capacità produttiva dell'azienda che deve essere in qualche modo sicuramente diciamo ricompensata in qualche modo quantomeno compensata rispetto all'azienda tradizionale ed è difficile che questo venga riconosciuto sul mercato almeno per queste tipologie di prodotti per quello che ne so io insomma sostanzialmente e quindi ti chiedevo insomma se voi nel vostro lavoro insomma avete provato a esplorare canali e modi insomma perché questo venga di diffusione insomma di questa e di maggior riconoscimento diciamo della possibilità di riconoscere maggiormente questo valore etico insomma dei prodotti da agricoltura sociale da imprese sociali e via dicendo insomma assolutamente nel senso noi come centro o almeno io come scusate no è che salta l'audio ci sono problemi col collegamento insomma ok come prima è saltato l'audio quindi non ti sentivamo più ti sentite? adesso sì ah ok ah ok ok allora no ti dicevo noi come centro ci ci proponiamo di sostenere l'intenditoria sociale a ampio spettro spesso c'è anche come dicevi te se ho inteso bene la domanda ma non sentivo nemmeno troppo bene è un problema di promozione anche proprio stessa dei prodotti e delle imprese che portano avanti questi criteri sia di produzione che di gestione è un problema di conoscenza in fondo anche qui ha ampio ampio spettro il programma per esempio social business city il nostro programma social business city mira da una parte a promuovere l'imprenditoria sociale quindi a far nascere nuove idee di impresa sociale ma anche a promuovere la conoscenza dell'impresa sociale perché come dicevi te da una parte è vero che le preferenze dei consumatori si stanno modificando in questa direzione però insomma ancora c'è tanto da fare probabilmente da questo punto di vista cioè far passare il messaggio che comunque il consumatore a ogni consumo scusate gioco le parole esercita una scelta insomma è qualcosa su cui si può ancora lavorare lavorare tanto e può essere discriminante poi per chi in agricoltura sociale come in altri settori lavora tutti i giorni sul territorio per portare avanti in mezzo a 3.000 difficoltà la crisi e tutto il resto un'impresa un'impresa sociale come del resto un'impresa un'impresa tradizionale da questo punto di vista noi abbiamo tutta una serie di programmi ecco da questo punto di vista e se volete ve ne posso parlare velocemente ci siamo con i tempi 3-10 minuti va bene io avevo solo un'ultima curiosità se siamo stretti se invece siamo stretti come preferite lascio a voi ovviamente ok senti vabbè concludo io con un'ultima curiosità dopodiché concludiamo con la parte del progetto di Pistoia e poi vediamo se avanza tempo magari volentieri ti faccio una domanda che potrebbe sembrare banale ma la faccio a te che sei molto più addentro di noi nel settore insomma hai detto prima hai richiamato la legge sull'impresa sociale quella del 2006 volevo sapere esistono degli enti di controllo dei bilanci sociali sostanzialmente che controllino che le aziende che si freggiano di questo di questo titolo rispettino poi diciamo i vincoli che a cui sono sottoposti prima e quanto e questo è un via del tutto legato alla tua conoscenza ovviamente quanto è concreto il ruolo insomma dei controllori nel senso spesso accade sai che i controllori insomma vengono pagati per controllare per cui di conseguenza insomma diventa un processo che potrebbe diciamo non essere così trasparente insomma come dovrebbe essere insomma e niente questa era un po' l'ultima mia domanda certo certo ok allora la legge prevede che si depositi il bilancio sociale annualmente si depositi presso il registro delle imprese una volta depositato in realtà l'unico controllo che viene effettuato quando si richiede l'iscrizione e quindi si richiede poi il rinnovo al registro apposito delle imprese sociali presso il registro delle imprese della Camera di Commercio è che il 70% dei ricavi si sia avuto in uno di quei settori previsti dalla legge quindi non riguarda nemmeno più tanto il bilancio sociale si prevede quindi che il bilancio sociale sia scritto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro che sono più o meno quelle che vi ho indicato io nella slide ovviamente ogni sezione è poi approfondita con delle sottosezioni io vi ho citato quelli che sono i passaggi più importanti per dare un'idea però bisogna pubblicare il bilancio sociale secondo quelle linee guida quindi bisogna riempire tutte quelle parti lì e pubblicarlo annualmente dopodiché viene fatto il controllo in base alla legge ma più che del bilancio sociale dell'organizzazione che fa domanda quindi no profit 70% dei ricavi è principalmente questo e pubblicazione del bilancio sociale quindi non c'è un vero e proprio controllore cioè non si mettono lì a controllare quello che è iscritto nel bilancio sociale perché di fatto nasce da uno strumento volontario quello che sempre a livello volontario si può fare è certificare il bilancio sociale e quindi avere un ente revisore tezzo che controlla che quello che te hai iscritto nel bilancio sociale sia sia idoneo sia veritiero è un modo per effettivamente essere ancora più accountability nel senso ancora più responsabile chiaramente te non solo scrivi il bilancio sociale ma ti assicuri anche che chi lo legge sappia che teoricamente quello è veritiero perché un ente terzo l'ha certificato e l'ha accurato poi si arriva alla tua seconda domanda che chiaramente quando si parla poi di certificazioni come il bene o il biologio o comunque con altre certificazioni c'è sempre un po' il problema lì che allora io pago qualcuno per certificare me e quindi c'è sempre il solito problema e tu dici ma chi masura è quello che te paghi non ti dica quello che ti puoi sentire dire ci sono ovviamente dei sistemi per interrompere questo gioco io non sono un esperto di certificazioni e chiaramente la reputazione di un ente certificatore si basa anche su questo da evitare questi giochetti però è chiaro e chiaramente quando c'è di mezzo una transazione economica può esserci anche qualcosa di strano anche qui bisogna verificare caso per caso secondo me ok grazie figurati allora mi prendo magari non lo so cinque minuti per parlare di Pistoia Social Business City se c'è tempo si si certo cerco di andare abbastanza veloce ho un'altra presentazione ma la scorro velocissimamente con voi giusto per darvi un'idea del programma che che portiamo avanti a Pistoia la vedete? aspetta aspetta sì 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 perfetto e in pratica questo è un programma che noi abbiamo inaugurato a luglio 2012 questa è una presentazione che ho fatto a metà diciamo qualche mese fa questo è il logo del programma noi come centro abbiamo inaugurato questo programma che nasce per la promozione dell'impresa sociale a ampio spettro sul territorio della provincia di Pistoia che è uno dei comuni della Toscana abbastanza vicino a Firenze che nasce grazie alla volontà di due fondazioni un raggio di luce onlus e fondazione classe di risparmio Pistoia e Pescia sia per diciamo sensibilizzare sui temi del social business come dicevo prima è importante anche solo creare un substratto di conoscenza verso questi temi in modo che poi i consumatori le persone insomma sappiano dare valore a questo a questo a questo a questo a questo settore nasce anche per creare un sistema che faciliti la nascita di nuove imprese spesso perché secondo noi almeno sul territorio spesso ci sono già dei servizi o delle organizzazioni che possono operare per promuovere l'imprenditoria sociale può essere utile metterle in rete farle conoscere di più promuoverle creare un sistema unico su un territorio per andare in questa direzione il nostro centro ha un team dedicato a questo a questo a questo questo programma nel 2012 quindi l'anno scorso il primo anno abbiamo portato avanti una serie di attività le scorro velocemente per darvi un'idea insomma di come può essere un programma del genere può essere poi portato avanti secondo me in qualunque tipo di territorio noi siamo partiti dalla Toscana perché ovviamente siamo attivi lì prima di tutto l'apertura dell'ufficio questa vedete è la mia scrivania siamo in via Abbi Pazienza in via Abbi Pazienza 1 quindi siamo sempre molto pazienti se passate da Pistoli eh sì sì no perché bisogna avere pazienza per sostenere l'imprenditoria sociale allora noi siamo partiti da via Abbi Pazienza 1 se passate da quelle parti insomma mi fa piacere ricevervi spesso sono lì l'abbiamo aperto a Sobbi 2012 quindi prima dell'inaugurazione del programma è stato il primo passo ovviamente sul territorio questa è la sala delle riunioni dove facciamo i workshop dopo vi dire un po' che i workshop facciamo l'11 luglio a Pistoia abbiamo inaugurato il programma ufficialmente anche se si era già partiti con delle attività è venuto proprio Yunus è venuto Muhammad Yunus l'11 luglio 2012 ha consegnato la targa alla città siamo fatti fare anche un paio di autografi ovviamente è stata una bella giornata è venuta a Giunta Santa Cente le istituzioni locali i presidenti delle fondazioni e Yunus ovviamente ha tenuto il suo discorso inaugurale eccolo qui in mezzo ai presidenti delle fondazioni che ci sostengono bello pacioccoso ecco una delle principali attività che abbiamo portato avanti sono stati dei workshop gratuiti per aspiranti imprenditori ma non solo anche per studenti universitari interessati cittadini del territorio per introdurre il concetto di impresa sociale sia per aumentare la conoscenza sia per dare magari strumenti iniziali a qualcuno che magari poi voleva poi iniziare un percorso in questa direzione in ogni workshop invitiamo un imprenditore un imprenditore locale un imprenditore sociale locale abbiamo invitato tre presidenti di cooperative sociali e il presidente di una impresa che invece non è una cooperativa sociale ma si configura come impresa sociale e ne abbiamo realizzati quattro l'anno scorso questa più o meno è la scaletta del workshop e il pomeriggio facciamo lavorare i partecipanti a gruppi sulla simulazione di una di un'impresa di un'impresa sociale adottando un po' questo schema mettendo al centro quello che è il valore offerto dall'impresa perché nasce se tu dovesse dire due parole perché vuoi far partire un'impresa sociale perché scrivilo qui a destra i clienti quindi chi è che pagherà per i tuoi servizi visto che la tua è un'impresa e ti pagherà per i tuoi servizi o prodotti come tratterrai dei rapporti con questi clienti tu che ricavi potrai contare per sostenere queste attività dall'altra parte la struttura dei costi perché io per rispondere a una finalità sociale dovrò avere delle attività delle risorse chiave quindi di conseguenza avrò anche dei costi costi e ricavi si dovranno pareggiare se io passo da un'idea che ho in mente a qualcosa messo nero su bianco ecco che insomma già l'idea viene fuori più concreta è interessante questo schema perché si può usare sia per nuove idee di impresa sia per fare degli esempi di imprese già esistenti incasellando qui tutti i vari settori dell'impresa sociale non mi soffermo insomma sulle valutazioni sulla soddisfazione dei partecipanti insomma è stata positiva per ora siamo contenti anche perché il programma è pluriennale ma ora come ora è triennale quindi dal 2012 al 2014 dipenderà anche da noi rimarremo a Pistoia nei prossimi anni per i risultati che porteremo per ora siamo contenti ne sono anche i nostri partner in più accanto a questi workshop sono per diciamo studenti universitari abbiamo fatto anche un grosso lavoro nelle scuole che è stato veramente molto bello e io devo dire non l'avevo mai fatto e lavorare con gli studenti delle superiori invece è stato divertentissimo stava veramente stimolante anche perché ti accorge quando gli studenti delle classi terze, quarte e quinte della provincia di Pistoia vengono chiamati a ragionare su noi li abbiamo chiamati a ragionare su quelli che erano sono condolori i problemi del loro territorio cioè quali erano i bisogni principali prioritarie del loro territorio vedi che riescono a fare dei collegamenti estremamente maturi e anche a portare delle risposte innovative cioè abbiamo lavorato anche con loro magari a simulare dei progetti di impresa sociale per risolvere alcuni di questi problemi e sono stati bravissimi ci sono portati dei progetti incredibili e abbiamo fatto un concorso a cui noi abbiamo involto 15 classi in tutto circa 260 studenti abbiamo fatto un concorso di idee a cui hanno partecipato tutti questi istituti tutte le classi e ci hanno sommerso con un sacco di progetti ma progetti che veramente molti se poi uscivi e continuavi a fare un business plan probabilmente veniva fuori anche un'impresa sostenibile interessante un sacco di idee ganse e il vincitore è andato in Bangladesh a conoscere il gruppo vincitore è andato in Bangladesh a conoscere i professori in un viaggio quest'estate l'estate del 2013 il progetto formativo nelle scuole si è concluso poi a febbraio marzo nelle classi e a maggio con il concorso alcuni aumenti dei ragazzi hanno partecipato perché noi in tutte le attività che facciamo facciamo dei questionari di valutazione per migliorarci anche sapere come siamo andati raccogliere dei suggerimenti sono stati sono stati gazzi sono stati sono stati simpatici mi è garbato vuol dire mi è piaciuto in Toscana e quindi no no è stato molto interessante poi invece quest'anno siamo partiti con un'analisi di tutto il terzo settore della provincia di Pistoia perché il programma si svolge a livello provinciale quindi abbiamo analizzato cooperative sociali APS ONUS del territorio della provincia di Pistoia abbiamo somministrato un questionario e estacoleremo dei dati faremo delle ricerche cerchiamo di capire quali sono i bisogni delle imprese sociali o comunque del terzo settore della provincia di riferimento abbiamo come detto prima cercato di fare rete con tutti gli attori locali che possono essere coinvolti nel creare un sistema facilitante per l'imprenditoria sociale sia a livello locale che internazionale poi nel 2013 queste sono tutte attività che abbiamo già portato avanti praticamente quindi lo studio sul terzo settore della provincia di Pistoia lo stiamo chiudendo proprio in questa settimana abbiamo ovviamente finito il progetto formativo del primo anno come vi dicevo il viaggio il concorso stiamo per ripartire con quello del secondo anno continueremo a fare workshop sul social business in questi due ultimi mesi nel 2013 faremo un seminario per gli amministratori locali abbiamo pubblicato gli atti dell'inaugurazione quella con poi Unus e ora proprio il 5 ottobre abbiamo fatto un evento che vuole diventare annuale di punto della situazione su tutto quello che di sociale di impresa sociale c'è in provincia di Pistoia a cui tra l'altro ha partecipato anche Flaviano Zandonai è stato un evento importante perché appunto la mattina c'erano dei seminari il pomeriggio dei seminari tematici è tutta una parte espositiva con imprenditori sociali insomma è stato anche lì a livello organizzativo che noi lavoriamo al programma piuttosto impegnativo e insomma magari chissà l'anno prossimo magari vi invitiamo e magari lo sa insomma ho conto di vedervi dal vivo ben prima io ovviamente è quello su cui lavoro tutti i giorni quindi ovviamente se poi mi lascia andare è finita potrei approfondire ogni attività tantissimo però insomma non voglio nemmeno rubare spazio agli altri relatori quindi penso di aver esaurito il tempo a mia disposizione ditemi voi direi che possiamo possiamo anche concludere io ripeto anche per chi è arrivato dopo purtroppo Marco oggi non è un canto solo noi perché la nebbia ce l'ha ce l'ha tenuto a terra e stesso problema poi ha avuto Flaviano che avrebbe dovuto tenere l'ultimo intervento di oggi quindi se lo avete sentito così con un ritardo di 10 secondi alla volta non è colpa sua mi riporto il suo dispiacere ci teneva davvero ad esserci però le occhiaie testimoniano io ero all'aeroporto stamattina alle 6 pronto prendo dopo se vuoi potrei proiettare la serie di sms che ci siamo scambiati che erano iniziati con un buongiorno e poi ho preso un decchino drammatico verso non mi fanno più partire così via c'è solo un pochino di ritardo siamo partiti oggi ecco va bene Marco se vuoi noi proviamo non si veniva niente ok dicevo se vuoi ti teniamo comunque come si dice ti teniamo connesso qualora tu voglia sentire l'intervento della dottoressa Mascio Finto o comunque portiamo il computer da questo lato ti riaccendiamo tra una decina di minuti o comunque se hai impegni per dopo noi comunque ti ringraziamo davvero tanto per la disponibilità speriamo di rivederci in carne e ossa quanto prima e ripeto nonostante anche la nebbia virtuale che ti ha ritardato di qualche secondo sei stato perfetto quindi grazie 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 ragazzi no grazie a voi anche è stato un piacere mio mi dispiace davvero tantissimo non essere lì di persona ma poi è assurdo dai che si è dovevo tornare a casa dall'aeroporto veramente fuori dal normale era fatta praticamente però vabbè dai spero anche io riconoscermi di persona prima possibile finché mi è possibile rimango connesso almeno sento l'intervento della dottoressa e sicuramente mi interessa e poi insomma vediamo come va la connessione insomma io intanto vi saluto e vi ringrazio ancora davvero grazie grazie a te grazie a te ciao ok ciao ciao ciao